E salve a tutti amici coperiani e bentornati in questo nuovissimo video Oggi è l'inizio di questa serie FT, le basi iniziali Perché questa serie? Perché tantissime persone mi hanno chiesto di rifare un video Dove spiego il gioco, bla 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 Però il gioco ha veramente tantissime tantissime cose Allora ringrazio il mio amico Carlino Che mi ha dato l'idea di fare una serie Quindi farla ad episodi Quindi ogni episodio ci concentreremo su determinate cose Come in questo ci concentreremo su tutta la gestione del menu Di quello che troviamo appena noi giustamente E ovviamente entriamo nel gioco Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link Al mio disco, al disco della community italiana di Tarkov In entrambi potete trovare gente con cui giocare Sicuramente ne trovate di più sul disco della community E ci sono anche tutte le varie notizie Quindi se volete anche rimanere aggiornati su varie cose Andate lì E questi video a chi sono indirizzati ovviamente A chi è appena iniziato a giocare a Tarkov E poi più avanti Ovviamente arriveremo a cose più avanzate Che magari potrebbero interessare anche chi gioca Magari da un po' più di tempo E niente Io vi invito già A magari pensare a quello che vorreste vedere nel prossimo video Che sinceramente ho già scritto un po' di cose Ma magari se voi vediamo che cosa scrivete Magari posso aggiungere qualcosa E ogni video io ovviamente vi chiederò Che cosa vorreste vedere nel prossimo Però ovviamente dovete pensare che io devo andare a tappe Cioè io non posso fare questo video E nel prossimo vi faccio vedere le cose avanzate Ovvero Come dire Il modding delle armi più forti Fare I preset per le armi Metagame Le armature più forti I proiettili più forti Quindi ovviamente devo andare di pari passo Di quello che una persona Man mano che va avanti Incontra E per me è difficile ovviamente Entrare nella testa di chi ha appena iniziato a giocare Mi ci sto mettendo di sana pianta Per capire che cosa posso mostrare E cosa non E quindi ovviamente spero degli aiuti anche da voi Magari proprio perché avete appena iniziato a giocare Che cosa volete vedere A fine video vi anticiperò un po' che cosa vedrete nel prossimo Nel prossimo video E vediamo un pochettino magari Se fare la stessa cosa in ogni video Ovvero a fine anticipo Che cosa ci potrà essere nel prossimo Però senza dilungarci Un chiacchiere Iniziamo Allora Ogni video Uscirà di lunedì Alle due e mezzo del pomeriggio Quindi date sempre un occhio Ovviamente io farò la premiere Quindi vedete già che c'è il video programmato Però questa è la scaletta Un video a settimana Ogni lunedì Alle 14.30 Allora Piccola introduzione a Tarkov Tarkov è un Survival sparatutto Con meccaniche RPG Perché survival sparatutto? Sostanzialmente è un classico sparatutto In prima persona Quando voi entrate avete la vostra arma Dovete uccidere le persone Survival perché dovete sopravvivere Possiamo chiamarlo anche Looter in shooter O shooter in looter Non mi ricordo Però quella è la sostanza Noi dobbiamo sopravvivere Gli altri giocatori Perché ci sono sia Player Che Bot Che magari Scav player Quindi Prima cosa Andiamo e troviamo PMC e Scav Quindi il vostro scopo Sostanzialmente è quello di Fare le missioni Cioè quindi Entrare in raid Fare le missioni Ammazzare gente Ammazzare Scav Fare loot Ed estrarre Questo diciamo È il loop Che si crea nel gioco PMC e Scav La differenza PMC è il vostro personaggio Principale Quello dove voi Livellate le vostre skill I vostri livelli Normali I livelli che ci sono In tutti I giochi come World of Warcraft Per fare un esempio Quindi voi Vi chittate il vostro personaggio Andate in raid E se morite Perdete le vostre cose Dall'altra parte C'è lo scav Non potete fare le missioni Con lo scav Avete un equipaggiamento Randomico Quindi voi entrate In game E non Praticamente Se voi morite Non perdete le vostre cose Perché C'è solo da guadagnarci Cioè Anche se voi Entrate ed estraete Subito Avete guadagnato La roba Iniziale Quindi sostanzialmente Questo è quello che dovete sapere Voi fate next E trovate tutte le varie Mappe Del hub Di cui c'è bisogno Di una chiave di accesso E poi tutte Le altre mappe Tra cui Del hub Non potete farla Con lo scav E non potete E non potete Avere le assicurazioni Che cosa sono Le assicurazioni Io Vado Su custom Scelgo l'ora Perché insomma Le ore vanno C'è sempre la stessa ora Ma sera O mattina Se cliccate ready Partite direttamente Senza fare Next Next Dove c'è l'offline Di cui noi Vedremo Nel prossimo Ne parleremo Nella prossima puntata E poi qua ci sono Le assicurazioni Quindi io Clicco sulle cose Che voglio assicurare Che ora è già tutto assicurato E abbiamo un prezzo Possiamo scegliere A chi farlo assicurare Proprio o terapista La terapista È più Costa di più Ma vi ritorna In meno tempo Vedete qua Return time Da 20 a 29 ore Io da 20 a 29 Perché Nell'Hideout Ho livellato L'intelligence center Che Le cose Vi arrivano prima E lo scav Invece Perché lo scav Avete un tempo Ogni 20 minuti Lo potete fare Invece Con l'intelligence Maxata Ce l'avete Mi sembra Dai 10 11 o 12 minuti In quell'arco lì Quindi È diminuito Quindi a me Il prafor Ci mette da 20 a 29 ore Ma chi c'è la base Ci mette dalle 24 Alle 36 ore E poi c'è la therapist Che ora Qua non Non lo fa vedere Però la therapist Ci mette Dalle 12 Alle 24 ore Oppure possiamo fare Insure all E abbiamo fatto Le nostre cose Abbiamo fatto tutto Molto più velocemente Che cos'è l'assicurazione? Voi Entrate in ride Morite Avete perso le cose Ma non è detto Se nessuno Prende la vostra roba Avete Una Cioè Avete questa Probabilità Che la roba Vi ritorni Perché non è detto Che vi ritorni sempre Però La maggior parte Dei casi La roba Ritorna E sostanzialmente Questo È come avere una sicurezza Quindi voi entrate Morite Magari avete Un amico con voi Vi butta la roba E sapete che vi ritorna Quindi diciamo È anche avere una sicurezza Magari è un modo Per togliere un po' Il Il gear fear Come lo chiamiamo noi Di Di questo gioco Andiamo avanti Possiamo fare Start looking for a group Vedete qua c'è tutta la gente Looking for a group Tasto destro E invitate la gente Gruppo massimo Di 5 persone Con lo scavo di 4 E Se voi avete Amici Non importa che fate Looking for a group Perché se avete degli amici Qua in alto Insomma Qua Dove invece Looking for a group C'è scritto Free hands Per aggiungere un amico Andiamo su Messenger Facciamo Free hands E Entri al player E cerchiamo Il Il player Da aggiungere E io mandiamo la richiesta Abbiamo qua i messaggi Ragman Poi vi faccio vedere A cosa serve Per chiamare i messaggi Prapor Per le assicurazioni E tutti gli altri Per le varie missioni Quindi quando voi fate le missioni Qua c'è la roba Che Vi arriva da qua Quindi voi controllate Sempre il messenger Però insomma Sapete che dovete Controllarlo Perché qua Accanto al numero Queste sono Le amicizie Qua avete Una graffetta Poi Charakter Che cos'è E' la nostra stash La primissima cosa Che voi fate Appena entrate Su Tarkov E' vedere Il La vostra stash Ehm Chi Chi ha la stand Ci sono Mi sembra Se non mi sbaglio Quattro Edizioni di gioco C'è la standard Ehm No Mi sembra tre Oddio Non ricordo bene Standard Due o tre intermedie Più Edge of the darkness Che è quella che ho io La differenza La standard Avete il gamma Avete l'alpha container Insomma il vostro secure container Di un due per due Quindi praticamente E' grande così Con questa roba qua E invece il gamma container E' il penultimo Più grande Che lo possiamo avere Con l'edge of the darkness Abbiamo lo stash Più 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 grande Quindi Mi sembra un 10 Per 63 Se non ricordo male E avete degli oggetti In partenza Avete più oggetti In partenza Ovviamente Chi ha la standard Può raggiungere Le stesse cose Di chi ha la joda Darkness Con light out Che vi lascio Qua in alto A destra Mi sembra Ehm Il link al video E anche in descrizione Ve lo lascio Il link al video Del light out L'ho fatto dedicato Light out serve Lo vedete lì E lì Vi spiego un po' Tutta la funzionalità Del Del light out Quindi il secure container Serve Che voi Mettete gli oggetti Gli oggetti Qua dentro Non vengono persi Alla morte Quindi se io voglio Questa roba Mi rimane qua Non ci potete mettere Armi Non ci potete mettere Tipo questa case I tipi di case Ehm Ci potete mettere Cure Queste qua Che sono Delle Tipo questo Il key tool Sono Sostanzialmente Queste Portafoglini Dove ci mettete Le cose Tra come Tra cui Le chiavi Per aprire le porte Con cose rare dentro Ehm Le keycard Per entrare in the lab Le targhette dei nemici Ehm I Bitcoin Flash drive Parlando della Sick case Tutte queste Con un sacco di cose Quindi la sick case È la meglio di tutte Che comprende Tutta la dock case Che potete metterci Il soldi Keycard Chiavi Ehm Anche Ehm Bitcoin Eccetera E anche la dock tag Che è questa qua Poi Ci sono Tanti tipi di container Di cui voi Sicuramente Farete un sacco Di Ehm Di utilizzo Come la lucky scav Junk box Costò 1.4 milione Adesso Un po' tantino Personalmente Però costò 1.400 È grande E così potete metterci Tutti questi tipi di oggetti Compresi anche questi Quindi potete metterci Bitcoin Cose rare Insomma Tutte le cose da Loot classico Chiamiamole così Perché se no Vi prendono veramente Un sacco Cioè io avrei L'inventario pieno Di questa roba Sarebbe veramente Veramente Un casino Poi ci sono Le ammo case Con tutte le munizioni Io sinceramente Ne ho poche Perché le compro Via via Quando mi servono Le ammo case Le pistol case Potete mettere Pistole Caricatori E anche Munizioni Quello per il cibo Quindi c'è Roba da bere Roba da mangiare Quello per le medicine E quello per Solo i caricatori Poi ci sono Quello per le armi Che c'è La weapon case La tick Weapon case Che è più grande Questa è la differenza Poi c'è L'item case Potete mettere Qualsiasi cosa Voi vogliate E poi c'è La tick Item case Che è tipo Aggiungete voi Quattro item case E quella È veramente enorme Poi Insomma Ci sono Tutte queste cose Tutte queste Cose molto Belle Per un gioco E chi ha la standard edition Può Veramente E sono veramente Utili Se non fa L'upgrade Della station E light out Poi Dei comandi Veramente veloci Voi trascinate La roba Ora ve lo faccio vedere Tipo da questo Trascinate la roba E cliccate R Mettete Verticale Orizzontale Quindi potete Gioco Fare il master Tetris Come volete Ad esempio Io questa C'ho la verticale Non posso La metto Orizzontale La posso mettere Che bello E così via Quindi una cosa Veramente utile Che La prima cosa Che uno scopre Ovviamente È veramente utile Poi Tasto destro Clic C'è CTRL Tasto sinistro Ve la mette Ve la leva veloce Come se fosse Minecraft E invece Vedete Io faccio CTRL Tasto sinistro Non fa niente Alt tasto sinistro Me la mette direttamente Quindi se voi Siete in ride E droppate tutte le vostre cose Per prendere la roba del nemico Se volete fare prima Alt tasto sinistro Ve la indossa direttamente Detto questo L'altra cosa che troviamo È trading Nel trading Ne troviamo tutti i trader Che ci vendono cose E noi possiamo vendere a sua volta Quindi andiamo da Prapor Questa è tutta la roba Che Prapor vende Possiamo fare i filtri Quindi filtri delle cose Vende a livello 1 2 3 4 Per magari essere un po' più veloci Per trovare le varie cose Le cose solo che Richiedono uno scambio Weapon parts Quindi tutti Le cose funzionali Le cose Gear Quindi caricatori Le cose vitali Che senza questi Magari le armi non funzionano Poi ci sono tutti i filtri Sbizzarritevi un po' Cell Prendiamo le nostre cose Non si può vendere tutto A lui si possono vendere Caschetti Armature E armi Sostanzialmente Anche munizioni Eccetera Insomma poi vedete voi Che cosa potete vendere O meno E ci sono le missioni Le missioni Ovviamente vi danno Dei reward XP La loyalty Che qua in alto Vediamo Current attitude Il nostro livello attuale Il livello nostro Del giocatore La reputazione Che abbiamo col trader E i soldi spesi Perché questo Perché voi Avete dei requisiti Quindi Dovete essere Il livello 15 Per avere il livello 2 Però dovete anche avere Un tot di reputazione Un tot di soldi spesi Quindi dovete Centrare tutti i requisiti Per poter poi passare Ai requisiti Del livello dopo Fino al livello 4 Al livello 40 Abbiamo Se abbiamo tutti Con i soldi Eccetera Al massimo Al livello 40 Abbiamo tutti quanti Al livello massimo Differenza veloce Tra i trader Therapist Vende Cure Più altre cose Come le Item case La tic Fai vedere se me la fa aprire No Ma qui non se me la fa aprire Però ci sono i vari scambi Bla 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 Quindi Preforo più per le munizioni Therapist Per le cure Fence è uno shop globale Voi gli vendete Le cose che magari Non potete vendere Agli altri trader Tipo Schier vi compra le armature Ma se sono troppo distrutte Non ve le compra E voi le vendete Praticamente Fence è la spazzatura Fence Le cose ve le paga molto meno E Ha solo una missione Che è quella finale Che vi da il K container Che è più grande del gamma Che è un 3x4 Quindi è un 4 in verticale E 3 per orizzontale Poi c'è Schier per le mod Più skipper Vende e compra In euro Mechanic Più per armi E mod Ragman per vestiti Armature Eccetera Jäger Cose per i pompa Il kit di riparazione Che vi cura Gli arti a zero Tranne testa E torace Solo lui vende il CMS Più altre cose Come appunto la sick case E quello che ho fatto vedere Questo RR Il rappelino Che si chiama Il rebel I speak Che vi serve Per delle estrazioni Insieme alla paracord E così via Vi fa queste cose Allora Chi dà le quest Tutti quanti Tranne Fence Che dà quella finale Se andate nelle playlist Trovate anche Tutte le Cioè Ora Non tutte Trovate Le Le playlist Delle missioni Di Prafor E di Schier Che sono quelle Che sono riuscite a fare Per ora E come ho detto In un post Insieme a questi video Cercherò di far uscire Anche le missioni A parte questo I trader C'è anche il free market Il free market E Tipo Le aste Diciamo Che è lo shop globale Di tutti i player Che mettono i loro oggetti In vendita E' un nuovo Un altro modo Per fare soldi Quindi ad esempio Ad offer Io metto Che vuol Metto il caschetto E Metto un prezzo Che voglio Posso scegliere Posso scegliere A quanto Rubli Dollari O O euro Oppure Se scambiarlo Con qualcosa E perché Non posso dare Questi oggetti E' perché hanno dentro Altre cose Quindi Non vi spaventate Se non potete Magari Potete vendere tutto Se non potete vendere le cose E' perché magari C'è qualcosa dentro Uguale nei trader Se magari volete vendere Uno zaino Ma non potete E' perché c'è qualcosa dentro Quindi datevi un'occhiata Sempre Tasti veloci Tasti veloci che si può fare Con il flea market Tasto destro Linked search Ovvero Le cose che vi servono Per quella Determinata cosa Tipo io faccio Tasto destro Linked search Sull'arma Vi fa vedere tutte le cose Che ci vanno Addosso Insomma A livello 5 Voi sbloccate il flea market Tasto destro Filter by item Ovvero filtrate Sull'oggetto Che voi avete il tasto destro Quindi Filter è solo Il fall Oppure tasto destro Required Ciò significa ad esempio Io vado qua Tasto destro Required Fa vedere che cosa Io posso prendermi Con i bitcoin Tasti molto veloci Veramente Veramente utili Come il preset Cosa veloce Lo sbloccate con La workbench Nella head out Il preset Sostanzialmente Tasto destro Edit preset Voi Se avete esaminato Gli oggetti Potete farvi tutto il preset Dell'arma che volete Poi ve la Ve la salvate Gli date un nome E voi ogni volta Ad esempio Open Saiga Questo è silenziato Open Ho questo Assemble Lo faccio qua Select E poi vado a comprare le cose Tutte In una botta sola Lo riapro Risercio il mio preset Faccio assemble Ci riclicco E faccio assemble E ce l'ho tutta Assemblata direttamente Senza esserci stato 40 minuti Quindi potete fare i vostri Preset Preferiti E rifarli subito Più avanti Potremo pubblicare I nostri preset In qualcosa di globale Perché Ce lo fa vedere Quindi Cosa molto canta Possiamo prendere i preset E divertirci con i preset Degli altri Detto questo Andiamo A vedere Le varie cure Andiamo dalla Terapista Attualmente Allora Painkiller Come Morfina Come Vasellina Come Golden Star Come Ibuprofene Sono tutti Dei painkiller Che cosa sono i painkiller Se voi avete lo stomaco Bucato O anche il torace Voi li tossite Se state veramente male Prendete un painkiller Smettete di tossire Quindi fate meno casino Avete Le gambe Completamente nere Quindi non le potete Ricurare Prendete un painkiller E potete Continuare a camminare Senza zoppicare Ma se correte Vi prendete Continuamente E danno Per questo c'è il CMS O il 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 Cms E Survival Kit Il 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 Vi Rimuove Anche Le Fratture Lavoro Che Farebbe Lalo Splint O Lo Splint Normale Che è Questo Qua Allo Splint O Splint Vi Levano Le Fratture E Quindi Il 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 Sorge Kit Vi Fa Anche Il Lavoro Del Dello Splint Quindi Se avete Un Arto A Zero Ma Con frattura perché potete avere alto a zero con frattura ve lo buttate direttamente lì sopra e vi cura entrambi in uno alto a zero e frattura invece col cms solo l'arto a zero e poi dovete buttarci sopra uno splint col cms l'arto a zero cioè in generale l'arto a zero quando voi ve lo ricuscite non ce l'avete alla vita normale quindi tipo io ho 80 di vita su 80 poi sono a 0 su 80 uso il cms o qualsiasi kit di cuscito come lo chiamo io ve lo porta a meno vita massima rispetto a quella di prima il cms ve lo abbassa veramente di più rispetto al survival kit quindi queste sono le differenze tra cms e survival kit poi ci sono tutti gli stimolanti che qua vi fa vedere tutti i buff e debuff ora non ve li sto a dire tutti perché è lunga la situazione ma io consiglio sempre il profital perché il profital vi continua a dare vita fa anche lui da painkiller e vi ruove un sacco di cose quindi il profital per me è il migliore rispetto a tutti gli altri però voi sicuramente queste sono cose avanzate diciamo inizialmente andrete ad usare ifac car salewa ai due vende gli splint allora ifac fa lo stesso lavoro del salewa e del car ovvero vi cura e vi toglie direttamente il sanguinamento anche quindi il salewa prende due posti a 400 di vita il car a 220 l'ifac a 300 e prende solo un posto voi usate le bende e anche la i2 io vi consiglio di usare le bende che siano le armi bandage o le bende normali e la differenza che le armi bandage hanno due utilizzi le bende normale ne hanno uno solo a me piace un sacco usare le bende perché hanno un utilizzo di due secondi rispetto magari a un 3 secondi ok può sembrare diciamo vabbè un secondo ma se siete in combattimento avete sanguinamento la benda a me ha salvato veramente un sacco di volte la vita perché veramente prende e strappa fatto veloce e poi potete curare velocemente anche con i2 anche lui dura due secondi e ha 100 di vita quindi queste sono le cose che voi dovete sapere ultima cosa voi qua avete i vostri parametri salute sete e fame queste cose ovviamente in game vi vanno a scendere prima quando voi morivate poi ritornavate nella stascia full vita full sete full fame adesso non più adesso dovete curarvi bere e mangiare anche una volta che voi siete estratte ad esempio io estrago con un braccio rotto bene nello stascia devo ancora dare quiet e curarmi quindi io vado qua medicine prendo il grizzly che ha 1800 di vita un 2x2 tasto destro heal all per fare velocemente e il grizzly vi leva anche le fratture quindi veramente veramente il painkiller più forte se lo volete se lo volete sapere è la golden star che dura 600 secondi quindi 10 minuti sono differenza di questo che sono 100 secondi in meno quindi quanto sono un minuto e 40 in meno quindi ovviamente è meglio la golden star perché non vi leva l'idratazione perché voi prendete un qualsiasi tipo di painkiller vi leva idratazione l'energia invece la golden star solo energia quindi state attenti anche all'energia e la salute in gioco ci sono veramente veramente tante cose da dover tener d'occhio come si mettono gli oggetti nella bar nella barra veloce tipo io questo ce l'ho nello zaino non posso ce l'ho qui non posso devo avercelo o nel tactical rig o nelle pockets quindi ricordate questa cosa e o prendo e trascino o clicco il numero a cui lo voglio con la freccettina sopra e scelgo il numero a cui lo voglio uguale posso fare anche con la granata perché si fa con la granata perché voi la prendete in mano e col tasto destro che magari gioca a cs lo lanciava più lenta insomma un po più vicino lanciava piano uguale qui col tasto cioè se la prendete in mano col tasto destro la lancia più vicino più piano col tasto sinistro classico la lancia più forte e poi qua trovate l'overroll che ci sono tutte tutte le vostre statistiche tutti i raid o quante volte siete sopravvissuti bla 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 insomma è tutto quanto quindi datevi poi una spulciata alle varie insomma alle vostre varie cose qui c'è alt qui ci sono tutte le vostre skill quindi qua i mastering delle armi perché più avete alto il mastering delle armi ovvero il vostro personaggio sa come utilizzarla meglio qua possiamo filtrare uguale qua possiamo filtrare queste sono le skill attive le skill che ancora non esistono e così via la mappa se avete la mappa della della dovete una mappa ve la far vedere ma sono in un cioè io non le uso mai fate un po voi che le potete comprare dalla terapista e poi qua ci sono tutte le missioni da vedere velocemente perché ci sono qui è vero completata anche una ci sono alcune missioni che se voi ma questo lo vedremo più avanti lo dico veloce se voi dovete prendere un oggetto però andate nel raid dopo e non l'avete magari trasferito off ride voi morite lo perdete lo dovete andare a riprendere poi qua ci sono le note piccola chicca poi qui c'è la head out che non clicco perché vi dovete andare a vedere il video quindi niente io sono arrivato a dirvi tutto quello che voglio spero anche nei prossimi video di raggiungere la mezz'oretta che voglio darmi di tempo per tutti i video e niente nel prossimo video parleremo subito di tutti i comandi in game quindi quelli che potessimo fare con i vari movimenti quelli che possiamo fare con le armi con i vari mirini oggetti come flashlight e laser e poi vi spiego un po' come approcciarsi con i primi game e iniziare a giocare per capire un pochettino tutte le meccaniche del gioco in game quindi niente io spero vivamente che questo video vi sia stato utile e spero che seguiate i prossimi video spero di essere stato più lineare possibile quello che sto cercando di fare adesso e continuerò a fare nei prossimi video ricordo che questi video sono mirati per le persone che hanno appena iniziato quindi non chiedetemi le cose avanzate adesso andrò a passetti per passetti e ditemi magari che cosa posso aggiungere nel prossimo video io prendo sempre in considerazione quello che mi dite perché siete voi quelli che avete appena iniziato e siete voi che sapete quello che volete vedere e cerco di aiutare tutti quanti quindi niente detta questa vi rinvito in descrizione ad andare nei vari discord in quello mio e in quello della community e soprattutto in quello della community potrete trovare più gente con cui giocare e quindi niente vi ringrazio nuovamente per la visione spero nuovamente di essere stato più lineare e che mi abbiate capito in tutto spero di essere stato bravo ecco ditemelo datemi dei feedback quindi niente noi ci vediamo nel prossimo video delle basi e niente un bacione ciao ciao ciao